Oh! Era la più lunga attesa da decenni e tra queste scoperte ci sono avuti sei anni stavolta. Abbiamo scoperto un nuovo numero primo. È il più grande finora, ma aspetta che anche se non te ne frega un cazzo che ti spiego quanto è bella questa scoperta. I numeri primi sono importanti in matematica per la criptografia e altro, ma non abbiamo un modo comodo per trovarli tutti e non seguono una sequenza precisa. Però abbiamo i primi di Mersenne, che sono fatti così, 2 alla p meno 1, dove p è un numero primo. Se p non fosse primo, sicuramente 2 alla p meno 1 non sarà primo. Ma a volte, se p è primo, anche questo qui è primo. Questi primi di Mersenne quindi sono facili da trovare. È sempre un po' un ago in un pagliaio, ma almeno un ago c'è. Quasi tutti gli ultimi primi più grandi sono tutti di Mersenne. E ora arriviamo alla parte bella. Ovviamente a una certa questi numeri diventano ingestibili a mano e quindi usiamo dei computer. Nel 1996 parte GIMS, la Great Internet Mersenne Prime Search, che è un progetto di volontari che collaborano mettendo a disposizione il proprio computer per la ricerca di primi di Mersenne e che ha trovato tutti gli ultimi 18 primi. Chiunque lo può scaricare ed essere responsabile per la scoperta di un nuovo numero primo. E infatti dal 1996 al 2018 i più grandi numeri primi sono stati scoperti da computer normali e non da mega super computer. E cavolo che bello, no? Rendersi conto che anche io e te possiamo fare scienza nel nostro piccolo. Negli ultimi 6 anni però non era stato più scoperto un numero primo. Era il più grande intervallo da decenni fino al 12 ottobre, quando Luke Durant trova un probabile primo che è stato verificato e quindi ora sappiamo che M136.279.841 è primo. Stavolta il merito non è più di un computer da consumatori. Luke Durant è un ex ingegnere Nvidia e ha usato migliaia di computer in cloud con Nvidia 100, le GPU potentissime che vengono usate per addestrare le AI oggi. Forse il periodo dei premi scoperti da casa è alla fine o forse no. Come ha detto Matt Parker però rimane il fatto che il progetto sia comunque tutto fatto da volontari, compleso di Luke Durant e c'è qualcosa di speciale in questo. Come scrive il sito di Gims, le persone collezionano oggetti rari e belli. I primi di Mersenne, che sono spesso i primi più grandi conosciuti, sono sia rari che belli.